Appello respinto è il verdetto della corte. Sono le nove e mezzo a Melbourne, l'una di notte in Italia. La difesa preannuncia il ricorso, l'ultimo all'alta corte australiana. Intanto George Pell, cardinale, rimane il più alto esponente della gerarchia cattolica mondiale condannato per abusi sessuali su minori. Sei anni di carcere dove tuttora si trova, combinati a marzo, per atti osceni e aggressioni a due piccoli coristi nella sagrestia della cattedrale di Melbourne nel 1996. Circostanze molto improbabili, ha sempre sostenuto e documentato la difesa per commettere gli abusi riportati. Ma nel frattempo lo scandalo mondiale pedofilia nella chiesa aveva travolto anche l'Australia sollevando ancora più clamore sul caso Pell, che si professa ancora oggi innocente e ringrazia i tanti sostenitori tramite la sua portavoce da Sydney, città di cui era arcivescovo prima che Francesco lo nominasse prefetto della Segreteria per l'Economia in Vaticano, dove il portavoce Matteo Bruni ribadisce rispetto per la giustizia australiana, vicinanza alle vittime e impegno a perseguire i colpevoli di abusi. Ma la Santa Sede annota anche In attesa di conoscere gli eventuali ulteriori sviluppi del procedimento giudiziario ricorda che il Cardinale ha sempre ribadito la sua innocenza e che è suo diritto ricorrere all'Alta Corte.